Dopo aver dato un incarico alla società Polab, l'amministrazione comunale di Fano ha iniziato un percorso di condivisione con la città per la redazione del nuovo piano antenne. Il Movimento 5 Stelle che cosa chiede alla Giunta? Noi vogliamo denunciare una cosa molto grave secondo noi, nel senso che il Comune di Fano purtroppo per vari motivi, ricorsi altari eccetera, si è trovato scoperto senza un piano antenne e quando purtroppo non c'è un piano antenne i gestori di telefonia possono installarle praticamente dove vogliono, qui mi viene in mente una vecchia vignetta di mio padre, ma a parte questo possono davvero fare come vogliono e il Comune di Fano non ha potere in mano decisionale perché non ha un piano antenne diciamo attuale. In passato cosa si era fatto? Anzi per 20 anni si era fatto in collaborazione con ARPAM che è l'istituto preposto a fare queste operazioni, annualmente veniva revisionato e annualmente veniva anche chiesto da ARPAM ai Comuni di sentire con i gestori qual era il loro sviluppo delle reti per poter concordare un attimino lo sviluppo territoriale in maniera armonica. E invece questo dal 2019 in avanti non è più successo e ci siamo ritrovati che a un certo punto spuntano TN al Fenile, spuntano altra Carignano e giustamente i cittadini sono preoccupati. A quel punto il Comune di Fano cosa doveva fare? Assolutamente rivolgersi ad ARPAM che è l'istituto preposto appunto per fare questo tipo di rilevazione e questo tipo di piano che lo deve fare come compito istituzionale. Invece il Comune di Fano ha dato un incarico a un privato, circa 100.000 euro se non ricordiamo male, per il lavoro che hanno svolto. Noi non contestiamo ovviamente il lavoro dei professionisti, ci mancherebbe altro, ma contestiamo il fatto che il Comune di Fano si è trovato scoperto senza un piano antenne e non si è rivolta ad ARPAM. In conclusione noi vorremmo sapere in Consiglio Comunale per quale motivo il Comune di Fano non si è rivolta ad ARPAM che è l'organo proposto a fare questo tipo di rilevazioni che tra l'altro sono le uniche che sono realmente riconosciute dalla legge. Per cui noi vogliamo sapere per quale motivo sono stati spesi 100.000 euro di tutti quanti noi cittadini per rivolgersi a un privato che sicuramente ha fatto un buon lavoro, però c'è ARPAM che lo fa come compito istituzionale.